La piazza sedile del campo a Salerno, Salerno by night, possiamo dire a quest'ora, con Zitano News, tra i vicoletti, le strade, le bellezze di Salerno, tra tanta gente, ospiti, stiamo facendo un'esplorazione sulle bellezze di una città con un sindaco un poco nell'occhio del ciclone per il doppio incarico, ma noi andiamo a vedere solo le bellezze naturali della città vecchia, di quello che è stata l'idea, la fantasia e il progetto di queste luminarie di questo periodo natalizio. Quest'ora non è utile, è attenta a queste cose, a questi eventi. Tra tanta gente, il nostro operatore riprende l'albero a cascata, il popolo e il bianco che richiama il clima natalizio, la neve, il freddo, ci sono anche amici di Sorrento, c'è Mario Pandolfi che riprende, Gigi Maresca, Redazione Positano News. Ciao a tutti!